Ciao a tutti ragazzi, sono Drexen e bentornati, anzi no benvenuti in un nuovo possibile gameplay Benvenuti su Need for Speed No Limits Allora ragazzi, questo video oltre a essere un gameplay è anche un video sfogo Mi sfogo con voi per YouTube Allora, vi spiego tutto, con calma, mentre giochiamo con questo gioco Perché sto facendo questo video su questo gioco solo per dirvi questa cosa Dopo faremo il vero e proprio gameplay Allora, vi spiego tutto Io avevo fatto un video su Asphalt 8 che precisamente era l'episodio, il secondo episodio Finisco il video, lo carico per il 17 che è oggi per voi Dopo il caricamento completato appunto del video di Asphalt 8 Airborne YouTube mi dice, cioè mi fa apparire accanto al video Questo video è soggetto a copyright o una cosa del genere Contiene contenuti copyrightati o una cosa del genere Clicco su ulteriori informazioni E trovo, scorrono sotto la pagina E trovo Rimuovi brano Praticamente questo in un tot di minuti C'era una canzone Una canzone di una persona che non conosco Ma a quanto pare è conosciuta In quella canzone ha più di 3 milioni di visualizzazioni Allora, appunto scorro la pagina Stoccolto su ulteriori informazioni Trovo, rimuovi brano E da lì ho detto, mamma mia Finalmente YouTube ha fatto una cosa buona Cercando di aiutare Clicco Appunto, rimuovi il brano Il pezzo del brano Clicco, aspetto 5, 10, 15 minuti Nel frattempo mi corro qualche video su YouTube Tanto per passermi appunto il tempo Ritorno sulla gestione video del mio canale appunto Su tutti i video, avete presente, no? C'è video caricati, video pianificati Tutti assieme, video privati Insomma quello E riguardo appunto questo video Asphalt 8 Airborne Accanto rispuntava la cosa Rispuntava appunto che c'era scritto Questo video contiene E' soggetto a contenuti copyrightati Insomma, si riferiva sempre a quella canzone Ehm Cioè Ecco E qui è finito tutto Praticamente mi hanno fatto Mi hanno costretto Non mi hanno scritto niente Sto dicendo io che mi hanno costretto Cioè Ho cercato di fare tutto All'inizio, no? Ehm Ho cercato di Di caricarmi il video Tagliare quelle due parti Ehm Quelle appunto Quelle due parti Quelle che Dove iniziava la canzone E finiva Ma niente Non ce l'ho fatta Dopo ho cercato pure di Di fare Di riprovare a ritagliare A cliccare su ritagliare il brano E a salvare Ma niente Dopo mi hanno scritto Ho ricliccato su Ulteriori informazioni E Ehm Youtube Sotto Mi ha scritto Impossibile Rimuovere il brano Qua Io mi sono Arrabbiato molto Mi sono arrabbiato molto perché Prima Youtube propone Prima propone Lui stesso C'era scritto Rimuovi il brano Clicco Salva Non è possibile rimuovere il brano Poi 5-10 minuti Ho aspettato Perché Youtube Prima propone E poi non riesce A fare un cavolo Allora perché proponi Non proporre niente Già che ci sei Non dire niente Dimmi solamente Già che ci sei Elimina il video Non va bene perché Questo video È soggetto a copyright E non dire niente Fammi direttamente Buttare il video Già che ci sei No Invece di fare le cose per bene Le fanno proprio a cavolo Insomma Youtube Funziona Bene Quando vuole Quando non vuole fare niente Lascia fare tutte cose Alle persone Che caricano E caricano E caricano Magari fanno le cose I video fatti bene E dopo Arriva Youtube Che ti dice Che il video È copyrightato Tra l'altro Non è stata colpa mia Perché io Non gliel'ho messa In sottofondo Io Quella canzone Ma era già nel gioco Quindi è colpa Dello sviluppatore Dello sviluppatore È colpa Dello sviluppatore Che ha creato Appunto il gioco Che ha messo Lui stesso Quella canzone Lì In quel gioco Quindi non è colpa mia Youtube È colpa Dello sviluppatore Di Asphalt 8 Airborne Mamma mia Ragazzi Il video sfogo Questa Praticamente È solo Ed esclusivamente Video sfogo Perché ho provato A fare la partita Ma non Non mi ha detto niente Cioè Non mi fa continuare E niente ragazzi Il video finisce qui Voi commentate Se siete iscriviti Per il canale E ditemi Se siete d'accordo Con me Su questa cosa Ciao a tutti Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti